Riprendono oggi gli allenamenti per l'Akragas di Lello di Napoli. I biancazzurri si ritroveranno allo Stadio Esseneto per preparare il match di domenica prossima, 9 ottobre, in trasferta contro la capolista Foggia per l'ottava giornata del campionato di Lega Pro Girone C. La partita Foggia-Akragas si giocherà alle ore 16.30 a porte chiuse per via della squalifica di quattro giornate combinata all'esito dei fatti avvenuti contro il Pisa nella finale di ritorno dei play-off della scorsa stagione. Intanto il Foggia è reduce da un pareggio con il Matera finita 1-1 alla partita di domenica scorsa. Per questo risultato il Foggia perde il primato avuto in classifica e viene raggiunto così da Lecce che, vigendo con la Regina, arriva in testa alla classifica con 19 punti. Al secondo posto lo Juve Stabbia con 16 punti, il Matera con 15, il Cosenza con 13, Monopoli e Casertana con 11, poi la nostra Acragas in tandem con il Taranto che ferma il Catania con un pareggio a 8 punti, il Fidelis-Sandria e il Fondi, quindi il Messina e la Regina con 7, la Paganese con 6 punti, a 4 punti un udito gruppo di squadre, il Frangavilla, la Vibonese, il Melfi, il Catanzaro, quindi penultimo posto per il Siracusa a 3 punti e il Catania sempre Fanalino-Nicoda con un punto. Le squadre siciliane hanno registrato i seguenti risultati, il Siracusa pareggia fuori casa con il Melfi 2-2, il Messina perde con la Paganese per 2-0 e il Taranto pareggia con il Catania. La prossima domenica derby di fuoco tra Catania e Messina che si disputerà alle ore 16.30, così come quella dell'Acragas con il Foggia giocherà fuori casa Foggia e il Siracusa incontrerà in casa il Matera alle ore 14.30.